Qualcuno doveva pure arrivarci in fin dei conti, non lo credi anche tu. Ovviamente non ti conosco, o magari sto semplicemente parlando a me stesso, ma il punto è che è questa la generazione di vita che sta assistendo alla fine. E non pensare subito che sia una cosa triste, o meglio, lo è, soprattutto se sei un tradizionale e nostalgico come il sottoscritto. Ma questo video ho voluto realizzarlo per regalarti un po' della mia consapevolezza. Non voglio fare la parte di chi saggiamente ti dice cosa devi o non devi fare nella tua vita. Semplicemente vorrei condividere con te quanto sto accogliendo nella mia, per magari darti qualche input ad agire sempre in maniera intenzionale e mai indotta. Perché la fine di cui parlo, la scomparsa di quel mondo che alcuni ricordano perché vissuto e che altri hanno soltanto assaporato e poi perso, è causata proprio dall'essere umano che per certi aspetti, quelli più infelici, appunto, sta scomparendo. Dunque, ti faccio vedere cosa ho scoperto. Ho scoperto che è bellissimo dare un bacio al proprio cucciolo ed aspettare che lui ricambi senza alcuna pretesa reciproca. Ho scoperto che è davvero emozionante osservare le persone che aspettano qualcosa, che immaginano le proprie direzioni e per sbaglio magari incrociare i loro sguardi e scambiarsi un sorriso dettato dall'innocente disagio improvviso e diventare dunque in qualche modo parte della stessa vita. Ho scoperto che la cosa più importante di quando si prende un aereo non è guardare in basso e meravigliarsi di quanto ci sia al di sotto di noi. Tutto quel mondo gigantesco, se non sappiamo guardarlo con i nostri occhi, ci sembrerà quello di sempre, ma visto dall'alto. Disabituarsi da tutto ciò che ci è imposto, apre i nostri occhi e sapremo guardare ciò che ci circonda ogni giorno in maniera diversa, spesso quella reale. Ho scoperto che andare a visitare gli edifici antichi può rivelarsi una cura per la propria pace, confrontare quelle strutture vecchie e vissute con la loro solidità e capacità di esprimere quanto di meraviglioso hanno saputo comunicare negli anni, realizzando che la maggior parte degli uomini in questa terra magari ignora tutto questo e ti fa sentire fortunato di aver deciso di farlo. Ho scoperto che entrare dentro una chiesa quando non vi è nessuno ti fa sentire in difficoltà perché riesci a percepire la tua voce interiore e parlarci, commuoverti e stare bene. Ho scoperto che a volte basta una persona per migliorarti una vita intera, che ti toglie ogni paura e ti regala il suo coraggio così da far venire fuori il tuo più forte di quanto pensavi potesse essere effettivamente e decidi di sposarla con una persona perché non sai cosa ti aspetta ma hai la pazienza dalla tua parte ed hai magari la fortuna di avere anche altre persone che sono lì per voi che vorresti ringraziare ogni giorno semplicemente perché esistono. Ho scoperto che il mare Ho scoperto il mare Ho scoperto che non tutti hanno perso la libertà perché la libertà è anche poter camminare per strada e aver la possibilità di mostrare il proprio sorriso così da creare seppur per un istante un'alchimia con lo sconosciuto che ti viene incontro e che adesso ti passa accanto senza neanche notare la tua esistenza o che si allontana perché ha paura quanti rapporti sono nati da un solo sorriso gli stessi che non nascono più adesso Ho scoperto che attraversare i nostri paesi italiani in macchina con qualcuno con il quale sai ridere e divertirti mentre segui o fai strada all'altra macchina il cui interno è pieno di altre persone con il quale sai vivere è meglio di qualsiasi altra vacanza all'estero ove sei alla ricerca di qualcosa che non hai mai visto senza accorgerti che i posti che conoscevi in realtà visti insieme a quelle persone sono tutta un'altra cosa Ho scoperto la fotografia ho scoperto l'istante immortalato e immortale che rimane per sempre ho lasciato in tasca il cellulare, il web, i social, l'ambizione la fame di provare a qualcuno e dargli prova che posseggo una vita condividendo ogni cazzata su quelle piattaforme ho preso la mia reflex e ho scattato tante volte, solo per me, per il mio futuro e per quello di coloro che sono impressi adesso in quelle foto che immaginano un pellicolo ho protetto quei giorni conservandoli e tenendoli lontano dagli occhi invidiosi delle persone che stanno morendo con questo mondo ho scoperto che stare tutti insieme a tavola ha un significato molto più profondo e radicato nella nostra natura di quanto ormai nessuno più vuole scoprire il mondo è finito perché ciò che un tempo avrà sicuramente avuto un suo inizio con i primi amori, i primi sapori, i primi sorrisi, i primi entusiasmi le prime certezze stanno svanendo perché a permettere che accada sono le persone le persone non amano più non hanno voglia di amare qualcosa qualcuno sono in costante ricerca dell'estrema botta di stranezza che li faccia sentire vivi perché annoiati da qualcosa che soltanto il giorno prima li aveva sorpresi ma la terra sotto di loro oggi si evolve più veloce di quanto non dovrebbe per colpa loro e dunque hanno paura di non stare al passo e ciò che va troppo veloce prima o poi si schianta e purtroppo per questa generazione lo schianto è già avvenuto l'essere umano ormai è un recipiente vuoto nel quale buttare la qualsiasi schifezza usa e getta possa soddisfarlo per quel poco che ancora gli fa provare il brivido dell'esistenza e io con questo breve racconto voglio solamente dimostrarti che puoi veramente prendere le distanze da questa realtà perché fin dal principio l'essere umano ha delle emozioni è un proprio volere che nasce da qualcosa che vuoi e non che devi rincorrere ma se non apri gli occhi e sono gli altri a forzare la direzione in cui devi guardare sarai vivo ma la tua anima morirà insieme a questo mondo cosa ho fatto io? beh diciamo che mentre tutto il mondo correva io mi sono goduto la pace di una semplice camminata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti